Ad accogliere Matteo Salvini anche una protesta, soprattutto dei giovani legati al movimento delle Sardine, protesta che si incentra soprattutto sulla questione dei porti chiusi e dell'immigrazione. Giornata a Ligure per il leader della Lega Matteo Salvini, in visita anche all'ERIC, però non mancano le contestazioni. Sì, più che una contestazione è semplicemente il desiderio di esprimere comunque un'idea diversa che c'è, esiste, e da liberi cittadini abbiamo deciso di dire anche la nostra, pacificamente, tranquillamente. Quindi assolutamente no ai decreti sicurezza, i porti devono essere aperti, perché la legge del mare non permette che persone vengano abbandonate, vengano lasciate morire in mare. Quindi siamo contrari a questi slogan, pura propaganda, che si va a riversare comunque in un contesto sociale e lo viviamo tutti i giorni. Quindi vogliamo portare un messaggio diverso.